bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono Nelmi Tanto oggi vediamo lo step 6 ovvero di Tremalga più la seconda bobbina per prima cosa dovremo trovare le lilari dentro la cassa possibilmente con tutti i membri della squadra entrare poi dentro l'apoticon e lanciare le lilari dentro gli spawn degli zombie ce ne sono sei alati due sui ponti e uno poco prima dei portali per fuoriuscire dal mostro ecco lì ecco lì ecco lì completato questo passaggio troveremo la bobina vicino al primo cuore dell'apoticon una volta raccolta la bobina andiamo a Keynother Totten dietro al palco e inseriamo la bobina dentro la cassetta l'errore di programmazione ha conciso con l'attivazione dell'allarme di incendio e della struttura di ricerca un attimo chi è? volevi vedere il tweet? certo Sofia, entra pure, si assiede a Rappo ho fatto di te mi è giunta una voce inquietante ricordo all'esperimento sul soggetto 26 sei sempre? ma certo è che mi ha incuriosito fammi vedere il braccio come? come? no perchè ti mi cresce il mio braccio? calma Sofia non ti farei male lo sai vero? si si lo so ma sai anche che voglio solo il tuo bene si si ma si 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 allora sai anche che qualsiasi cosa farò sarà per il tuo bene non ti farei male